Ciao ragazzi, oggi voglio insegnarvi uno dei più buoni e facili panini che possiate farvi benissimo come spuntino, come schimicata tornati a casa da una serata, sabato sera oppure se si vuole andare fuori velocemente e mangiare qualcosa di veloce allora, pan bauletto o pan carré o pan in cassetta come vogliate chiamarlo lo tostate leggermente in modo che abbia fuori il croccantino e dentro comunque sia ancora un po' mollo quindi non è né tostato né mollaccione, questo è scuro perché è integrale ma va bene anche quello normale poi del buon ketchup Heinz, mi raccomando Heinz naturalmente è il ketchup più buono del mondo e poi dei cracker, allora facciamo un cambio di inquadratura ecco qua, e iniziamo, allora prendiamo il pan bauletto il ketchup Heinz e mettiamo un poco di sketch eccolo qua, così, è il cane che abbaia allora ne mettiamo poco, ok, perché dopo dovremmo metterne ancora, vedete ho messo un po' la carlona poi ci sono varie teorie per i pezzi di cracker, c'è chi li mette interi, c'è chi li mette spezzettati oggi li metterò in parte interi, ecco qua vedete cracker normalissimi, eh, niente di strano se avete poi cose particolari, magari sono delle varianti vedete, metto qua, questo lo spezzo perché altrimenti vedete, il ketchup funge anche da collante lo mettiamo ancora ok, se è poco perché dopo ecco qua mettiamo uno di qua ok, poi ne mettiamo uno di qua uno qua e uno qua potete fare tanti strati quanto volete, eh io ne faccio tre ecco qua facciamo l'ultimo strato poi insomma è un po' a vostro piacimento quattro strati secondo me sarebbe l'ideale, eh perché riuscite a avere una distribuzione più uniforme dei cracker eccoli qua ultimo giro di sketch come dice la bianca eccolo qui sopra eccolo qua e date una bella schiacciata cambio inquadratura eccolo qui e adesso vedete adesso si dà un assaggio ragazzi proprio una cosa divina è proprio questa questo contrasto croccante dolce acido del ketchup poi c'è il morbido contrasto morbido croccante caldo freddo perché il ketchup è freddo il toast è caldo il pane è caldo perché l'ho tirato fuori la tosta di lice comunque ragazzi mi raccomando provatelo perché è una cosa da non perdere ciao ciao a tutti ragazzi alla prossima ciao